Imra progetta e fornisce ascensori, montacarichi, elevatori in genere, impianti e ausili per diversamente abili con un servizio di assistenza 24 ore su 24. Un ulteriore passo verso la conclusione di un processo. Se la giustizia deve avere un senso, è giusto che la sentenza nel secondo grado di giudizio sia stata confermata e i 30 anni di carcere. Anche se per noi parlare di giustizia siamo contenti, però non è che ci ridà annunzia. Nemmeno l'ergastro ci potrà ridare annunzia. Però è giusto che sia così, perché chi commette un riato del genere non può, visto che ha avuto la possibilità di avvalersi, la fortuna di avvalersi del rito abbreviato, quindi non avere l'ergastro, ma quantomeno i 30 anni nel primo grado di giudizio sono stati confermati in questo secondo grado. Quindi, come dicevamo prima, un ulteriore passo verso la conclusione di questo processo assurdo per noi. Perché, ripeto, chi commette un riato del genere non deve uscire più dal carcere. Non ci sono motivazioni che possano tenere, giustificazioni per chi commette un riato del genere. Anche se a me, ritorno sempre in mente, a me e ai miei fratelli, durante il primo grado di giudizio, che è l'avvocato della difesa, diceva, giammai giustificare un atto del genere, però un atto del genere è da comprendere. Mi deve essere spiegato, perché l'ho detto più volte, come si fa a comprendere un atto del genere? Ma soprattutto verso quelle donne che sono, continuamente, ci sono ancora oggi, che sono vittime di violenze, violenze fisiche e violenze psicologiche. Quindi, comprendere che un uomo possa ammazzare la propria donna. È assurdo. Durante il processo, durante l'udienza, purtroppo, conoscendo, non riuscivo a stare in aula e sono uscito fuori. Parlo da fuori e sentivo, diciamo, che uno degli avvocati, l'avvocato Spatafora, aveva un po' un tono, posso dire, abbastanza alto. Tant'è che sono entrato e volevo sentire, mi sono fatto forza per entrare e sentire che cosa diceva. Nel momento in cui lui stava dicendo che chi poteva negare che quel giorno, visto perché lui parlava di omicidio e suicidio, che il primo ad essere stato soccorso fosse stato Salvatore e quello più grave fosse lui e non Nunzia, quindi i soccorsi sono stati prima a Salvatore. Io ho alzato la mano e ho detto, io lo posso negare, perché io quel giorno ero presente. E quando sono arrivato insieme ai medici del pronto soccorso, subito, un attimo, loro avevano già messo, stavano preparando Nunzia, la stavano mettendo sul lettino, era già intubata, Salvatore stava a terra e mi hanno detto di prestare attenzione a lui. I medici del primo soccorso sono andati via e dopo dieci minuti è arrivata la seconda ambulanza e io ho dato una mano a prendere Salvatore. Quindi non è vero che il primo soccorso è stato fatto verso Salvatore. Poi un'altra cosa che terrei a chiedere all'avvocato Spadafora, visto che sempre ha dichiarato che durante il primo giudizio si è dovuto avvalere della scorta perché è minacciato, chiedo all'avvocato Spadafora di fare i nomi di chi l'ha minacciato, perché gettare fango sulla famiglia Majorano e far capire che forse noi abbiamo fatto qualcosa, è un qualcosa di inaccettabile. Quindi chiedo all'avvocato Spadafora, ma giusto per capire anche noi, chi, chi, e fare nome e cognomi, chi si è permesso e chi ha fatto delle minacce, perché sicuramente non siamo stati noi. Come associazione siamo molto emozionati oggi e da ieri in realtà che abbiamo avuto una notizia che finalmente è stata resa giustizia e l'omicidio è stato finalmente acclarato e finalmente c'è un colpevole e questa condanna rende giustizia a un omicidio efferato, un omicidio che ha turbato la coscienza di tutti, di tutta la popolazione e di tutte le donne vittime di violenza. Grazie a tutti.